salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano e non è tutto non è tutto oggi il discorso dell'esclusione di chiesa perché dall'altra parte nell'altro stato nell'altro paese c'è un altro escluso un escluso d'eccellenza che dobbiamo sicuramente discutere qui con voi il motivo dell'esclusione e il diciamo quello che secondo noi è già successo e si concluderà a breve prima di raccontarvi questo scenario di calcio mercato però mi raccomando fateci una cortesia iscrivetevi al canale che è gratis semplicemente da supporto per supportarci lasciate un bel mi piace a sostegno condividete il video scusate commentatelo dicendoci la vostra attivate la campanella delle notifiche poi per non perdervi tutti i prossimi contenuti e aggiornamenti sul mondo juventus e non solo io vi do un altro consiglio ma ve lo do a voi perché ci tengo che rimaniate veramente informati qui sotto in descrizione ci sono dei link due in particolare uno è calcio news 24 secondo canale del globo toscano su youtube sosteneteci iscrivendovi e rimanete aggiornati su tutto il calcio della serie a e in più secondo link a tutto calcio.com il nostro sito web che è veramente secondo me uno spettacolo ci sono tanti tanti nuovi progetti da farvi vedere e conoscere quindi mi raccomando iscrivetevi al secondo canale e andatevi a vedere il nostro nuovo website allora vi stavo dicendo dobbiamo parlare di un'esclusione perché oggi pomeriggio c'è l'amichevole lecce nizza lecce nizza ok alle 17 allo stadio via del mare e quindi c'è il nizza il nel nizza chi ci gioca ci gioca todiboh e andiamo a leggere cosa recitano le parole di ieri sera del buon fabrizio romano tramite x dice jean clerc todiboh non convocato con il nizza per la prossima amichevole todiboh vuole solo la juventus la trattativa tra i due club prosegue ha scritto il giornalista dunque todiboh non è nella lista dei convocati del nizza per l'amichevole di domani contro il lecce mi pare che neanche l'altra amichevole fosse stato convocato io vi dico che due indizi solitamente formano quasi una prova anche se poi non deve essere una prova e sono due indizi pesanti no non ha problemi di infortunio e non è ma viene escluso per due amichevole consecutive io dico che gatta cicova è sicuramente ambito da più club ma la juventus in questo momento è la sua destinazione preferita quindi sta forzando la mano come dovrebbe fare anche cop miners per vestire la maglia bianconera il giocatore è a tutti gli effetti imprescindibile per tiago motte giuntoli anche perché se calcoliamo le partenze di giallo e rugani se no ragazzi con il solo cabal e l'upgrade di savona in prima squadra con questi nuovi e basta dopo aver perso diversi giocatori il reparto difensivo a livello qualitativo è buono più che buono ma a livello numerico è un po un po troppo tirato no quindi quindi todibo direzione juventus oggi è domenica ragazzi non vi fate strane idee oggi non si conclude oggi come tanti come si dice opinionisti youtuber la domenica è sarà no spesso ce n'è qualcuno che parla tanto di domenica scrive tanto e fa anche dirette di domenica infatti li apprezzo tantissimo quei canali ma la maggior parte si vogliono godere come è giusto il loro diritto la domenica e le festività io vi dico la mia secondo me quando si lavora non si va in vacanza e se si va in vacanza proprio sotto il calciomercato secondo me si fa una pecca perché non si va a informare bene i propri utenti i propri iscritti ovviamente c'è anche il fai calciomercato dalle vacanze il buon colpo gobbo dalla sardegna è sempre lì col cellulare quindi complimenti a chi anche nella meritata vacanza si fa i suoi video il buon chinosci è comunque sempre puntuale con i video addirittura con le live ieri ha fatto la live reaction della partita fa le live reaction delle conferenze stampa quindi diciamo che sono tutti ragazzi lavorano da dio secondo me infatti io prendo sempre spunto esempio da loro nel modo che hanno di lavorare quindi vorrei fargli un gran complimento ma come sapete io non li taggo perché non ho bisogno che loro c'è che la gente veda il mio video ho parlato di colpo bobo e chi noce allora tutti a cosa avrà da dire come quando fanno i dissing e allora tutti si riversano sul canale fai quelle mille duemila visualizzazioni in più rispetto alla media no non sono quel tipo di persone non sono quel tipo di youtuber quindi io ne parlo semplicemente senza né taggarli né niente ma perché loro lo sanno quello che penso e come devo fare un plauso a tutti i miei collaboratori perché mi stanno informando sempre di più della situazione dell'evolversi di queste situazioni qua quindi tutto tipo alla juventus è questione di ore quindi non vi fate impressionare che oggi è domenica ma da domani ogni giorno ogni ora è buona quindi domani probabilmente attenzione probabilmente ci sarà qualche avvicinamento tra il club della juventus e il nizza madonna c'avevo un rospo in gola scusatemi ragazzi non ve le posso tagliare perché sennò è il bello della del video reale no del reality del reality gobbo e diciamo che manca solo una distanza ve lo ripeto ormai da tempo l'unica distanza che manca non è sul prezzo del cartellino non è sull'ingaggio del calciatore sullo stipendio o quant'altro sulle commissioni della gente no il rallentamento è semplicemente per stabilire con esatta precisione quale sarà la cifra che la juventus dovrà corrispondere per il prestito oneroso nell'immediato al nizza la juventus vuole stare entro gli otto il nizza vorrebbe da otto a dieci quindi la forbice piccola si sta cercando di limare gli ultimi dettagli ma è evidente che a meno che non succeda qualcosa di inaspettato e di catastrofico il giocatore la prossima settimana vestirà la maglia della juventus ragazzi non ce la fo non ce la fo sto sto malissimo ieri tra l'altro è venuto un diluvio mi si è allagata casa perché qualche stronzo non aveva chiuso il portone siccome la nostra casa è appena appena in dislivello è un po in discesina all'ingresso il coglione aveva lasciato la porta aperta mi ha fatto allagare la casa c'avevo tanto così di acqua in tutta la casa non vi dico meno male salvavo pc ventilatore c'avevo tutta la roba attacca tutta la roba attacca in più ci sarei la bambina quindi si poteva rimanere un'altra volta prima l'incendio poi l'allagamento no capito qui non si finisce mai di 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 stupirci anche perché quando sei vicino di casa a parliamo chiaro dei maleducati degli rispettosi e gente è abituata a vivere non lo so indocapita in alloggi di fortuna e diventa difficile una convivenza e un'integrazione tanto si parla di integrazione con il vicinato comunque io sono sempre la gola messa peggio in ieri mi son fradiciato tutto sono stavo piedi nell'acqua per due ore e mezzo ma questi sono dettagli non vi frega a voi ma io ve lo racconto lo stesso quindi todiboh prossima settimana si chiude copminers arriverà in sequenza lo step dopo todiboh sarà copminers proprio per capire quanti effettivamente saranno i soldi pronti lì che rimarranno dopo anche l'acquisto di todiboh e c'è anche la questione chiesa perché come vi abbiamo anticipato chiesa in uscita tiago motta ha detto trovatevi una situazione una soluzione veloce perché è meglio per tutti voi per voi e per noi quindi trovatevi una sistemazione nel più breve tempo possibile non ci credo e chiesa non si riesca a trovare una sistemazione ovvio alle sue regole la vedo difficile 6 milioni 7 milioni l'anno è già la champions league e fai titolare in una squadra della champions league per un chiesa che ad oggi sta facendo l'anno scorso ha fatto pena gli europei ha fatto pena l'anno prima era rotto è tre anni e non si vede chiesa io credo che debba un po ridimensionarsi no il ragazzo era il 2020 stagione 2021 l'ultima stagione importante di chiesa quando poi si è anche infortunato ragazzi c'è po da discutere chiesa non è più quello di una volta quindi si deve andare via che vada via però che accetti anche qualche condizione più bassa rispetto a quelle precedenti non è più il giocatore di prima quindi chiudiamo qui ragazzi conto di boi indirittura d'arrivo e copminers subito dietro mi raccomando fabrizio romano solitamente non sbaglia quasi mai ma poi è potete controllarlo tutti non è stato convocato per il match odierno contro il lecce ragazzi due match consecutivi e non ha infortuni attualmente non è in vacanza ecco il gruppo vuol dire che è in una situazione di mercato e ce l'ha detto bene Tiago Motta ieri come possono essere importanti queste situazioni di mercato e come si possa rispondere non convocando i giocatori proprio per preservarli per un'eventuale cessione ma si fanno allenare perché non si vuol dare un prodotto usato e anche messo male si vuol dare un prodotto comunque che è al passo con la preparazione ma che non ci sono rischi di infortuni sul campo è molto più facile averli che in allenamento detto questo ragazzi iscrivetevi lasciate like condividete commentate attivate la campanella mi raccomando fino alla fine Forza Juve fino alla fine Gobbo Toscano perché il Gobbo Toscano siete tutti voi ci vediamo più tardi con un nuovo video ciao